L'obiettivo che si erano preposti come numero di firme non solo è stato raggiunto e superato abbondantemente ma anche in tempi record, a testimonianza di quanto sentito dai cittadini è questo aspetto di salvaguardia dell'ospedale fanese. Nonostante una funzionaria dell'ufficio comunale preposto, ci dicono in conferenza stampa, ci ha rigettato la richiesta per il banchetto vicino all'ospedale, già dopo due giorni di gazebo il numero minimo, 1100 firme, per la mozione era raggiunto ed ora è attestato a 1353 ed il quorum per il referendum 2006 abbondantemente superato ed ora è oltre alle 3000 firme. Oggi annunciano il loro ingresso in questo pool di liste, tre compagini nuove, la lista civica dell'ex consigliere regionale Zaffini, riscossa a Fanese, il movimento radical socialista e i repubblicani che spingeranno assieme alle liste civiche promotrici fino all'ultimo giorno possibile per raccogliere quante più firme si potrà. Certamente io non potevo mancare, dato che i cinque anni che ho svolto in regione sono state sicuramente una delle battaglie più aspre che abbiamo fatto. Abbiamo sempre cercato di informare i cittadini delle iniziative regionali, del piano sanitario regionale che appunto faceva prevedere tutto quello che poi purtroppo si è avverato. Quindi io aderisco chiaramente con molto entusiasmo a questa nuova sfida perché per la prima volta una firma data ha un peso vero, perché quante volte abbiamo raccolto firme che poi non si sa che fine hanno fatto. In questo momento invece questa firma che i cittadini di Fano danno ha sicuramente un peso è un'importanza notevole perché appunto si procederà con un referendum e poi il referendum sarà una cosa che si porterà sul banco, sul banco della regione e sul banco della sanità che i cittadini richiedono. Quindi mai mollare, quindi l'ospedale nessuno ce lo può toccare. L'ospedale di Fano è un ospedale storico, ha 500 anni di vita e non può una legge regionale portarlo via. E non solo, l'ospedale di Fano è il capofila della via Flaminia, la via più importante storicamente che abbiamo dove insistono le città storiche più importanti della provincia di Pesaro che non hanno nulla a che fare con le città che ha dietro Pesaro. Quindi questa è una valenza non solo della salute, chiaramente la cosa più importante, ma anche una rivalutazione del nostro territorio che non può perdere una cosa come un ospedale. Io sono in questo comitato in rappresentanza di un'associazione che vuole che la politica riparta dai problemi concreti e in particolare dai diritti delle persone. I diritti sono quello alla salute per prima cosa, al lavoro, alla casa, alla libertà, alla giustizia sociale, ma il diritto alla salute lo vediamo come fondamentale a livello locale e nazionale. Il diritto alla salute va garantito in questo momento indirizzando le poche risorse pubbliche che ci sono nei servizi effettivi al cittadino, al malato e quindi nei servizi sanitari e non nella costruzione di nuovo cemento e nuovi muri che non risolvono il problema, che è la qualità del servizio sanitario. E questo è importante dire che non è solo la localizzazione assurda fosse o sei ore il problema, il problema è proprio la costruzione di un ospedale unico provinciale, perché la sanità deve essere diffusa e non concentrata in un unico punto, diffusa sul territorio a partire dalla salvaguardia degli ospedali esistenti, quelli di Fano, di Pesaro, di Urbino, eccetera, eccetera, degli altri centri del territorio. Questo è il motivo della nostra partecipazione. Noi ci siamo associati a questa protesta perché riteniamo che la salute non si cura con i muri, ma sicura con le apparecchiature scientifiche, con buoni primari, eccetera. Quindi le strutture di Fano e di Pesaro e anche di altre devono essere riqualificate. Devo fare un appunto anche al presidente Cerigioli perché nel sito del Fosso Seggiore è un sito archeologico con resti della civiltà piccina ed anche di protezione delle colline marchigiane. Noi nel territorio del comune di Fano le colline sono state protette, mentre invece nelle colline che sono sotto il comune di Pesaro, quello che ha amministrato appunto Cerigioli, le colline sono state antropizzate, ci ha fatto delle ville, dei quartieri. Quindi la zona è completamente protetta dal vincolo paesistico e paesaggistico. Io non so come sia venuto in mente di progettare un posto del genere. Comunque gli ospedali si possono qualificare con meno dei soldi spesi per le famose visite extra a regione, che sono circa 60-70 milioni. Se lui qualifica gli ospedali già esistenti risparmierebbe quei 60-70 milioni e i 500 milioni per fare l'ospedale nuovo non servirebbero. I muri non curano la salute. Appuntamento per tutti i promotori e cittadini per la consegna delle firme al sindaco ed una fiaccolata alle 20.30 quindi di venerdì 29 aprile in piazza 20 settembre. L'obiettivo iniziale era quello di coinvolgere più forze politiche, liste civiche possibili della città per riuscire proprio a sostenere il nostro ospedale. E la cosa è andata proprio in porto e oltre a loro che si sono aggiunti noi facciamo sempre l'appello a nuove forze, liste civiche, associazioni, chiunque vuole di comunque aggiungersi ancora noi perché ancora la strada da percorrere c'è. La mozione l'abbiamo consegnata, siamo già arrivati a buon punto con le firme e abbiamo superato le 3.000 firme necessarie per chiedere il referendum però chiaramente continueremo ad andare avanti perché uno schiaffo leggero cioè tre schiaffi sono meglio di uno più leggero. Quali sono le nuove postazioni dove si potrà venire a sottoscrivere la vostra iniziativa? Allora oltre ai banchetti fissi che abbiamo sempre il mercoledì e il sabato nei giorni di mercato dalle 10 a mezzogiorno dalle 4, dalle 16 alle 19 davanti al Gabuccini in Corso Matteotti abbiamo aggiunto per due domeniche domenica 17 e domenica 24 la postazione a Lido di Fano di fronte alla pista di patinaggio con gli stessi orari che abbiamo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.